ho veduto la webcam no sono ancora raffreddato sfortunatamente idroponics idro sì li pusciamo dopo che ho visto una scia diamantuna attenzione si parte subito grazie anche per rara si smentisce mai dicevo il vizio di lamentavate che dicevo diamantini ora dico diamantoni e neanche va bene vabbè non sono richiamo così c'è un caricatore che voleva mi serve 99 o massif se lo trovate o voltaggio e zainetto nel cafter o lo prendo lascio l'r 99 cacchio ora mi sarebbe servito il bolt la non è usato per forza verso bonsai 100% tracce da da sivan un bel po di tempo fa quindi questa strada hanno preso arriva prendervi non c'è che si sono letti dritti di qua per forza perché al sinistra il pin non ce lo lo sai no sì allora ci rispondai uno che si fa sti bin fate a questi sivan tacco grazie mille che ben tornato è ben tornato all'undicesimo mese della bullets family ben bentornato un altro mesetto facciamo l'anno eh c'è un massif raga no due massif no io sono a posto tu scendi voglio provare a giocare tipo assist non trovi neanche un massif e vena una casetta così e ne trovi due oh oh anti a sivan un octane una vreat l'altro è fatto se non erro fanno l'edri glitch a sinistra o no? si la vreat anche è blu la vreat quasi craccata affidato la vreat si sta allargando a destra eh l'ho vedo dietro quel b ha hit octane purple 75 nocato no stai facendo tp eh ha ballato l'octane ha ballato verso l'octane stanta florizon e sulla rampa 70 viola oh what lead glitching craccata craccata mhm io non ci sono tirano nobato da me la vreat si sta militando c'è che scena 48 flash morta mox da te arrivo ok grazie mille per il prank quasi craccata ben tornata a condiciso mese nella bullet family anche te un altro mesetto e via scanno verso est no è pulito, si va con l'anno prossimo torna ragazzi domani esattamente scudo termico è quella pallina nuova che hanno aggiunto che lanci cosa stai provando? si che mi copre questa è quella che chiude nella zona qua davanti o alla rampa qua? vabbè dall'altra parte del muro beh io se non possiamo andare a trovare anche un altro fight si volendo andrei verso nord a cercare gente ci abbiamo? viaggiamo? vogliamo? partiamo allora ulto sono tutti quanti davanti nooo distrutti? morti in tutto il team questi due non ho preso nancuno io sono stato kidnapato da te si ma ti avevo detto per come sparava e niente si ti denap e 10 mox ho il calcolato ho il calcolato oh no ho il calcolato oh no qua sotto 3 sono qua sotto 3 sono lo scanno in 7 ma mi sa che faranno il giro tagliamogli la strada dall'altro lato e piano piano si avanza andiamo un carpackers più avanti vai vai in 10 mancano due team e' un ratta e' già e' un ratta si e' un ratta si e' un ratta si e' tanto ormai vengono loro da noi non ha senso andare in giro bellissimo ma non c'è nessuno no vado alle casette gente lì dentro non sbaglio aspetta no forse me la sono immaginato non vedo nessuno non vedo nessuno beh non so avevo detto che c'era gente alle casette aia vabbè ma avvisaci almeno iniziava ad arrivare mentre spari mannaggia dov'è dentro le casette si sta volando un gibby con la jumper da qualche parte arrestando dentro la casa e qua davanti arrestando si no questa ultima non va bene ho ultato prendo spazio a sinistra quindi quando puoi riscannarli arrivo 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 sono in due ragga aspetto voi ma è il totem del revenant? sono andati lì eh c'è qualcuno close da me si c'è uno sotto da me mox se vieni lo pushiamo è sputtato si 116 loctane arrivo da voi allora io non ho bolla loctane 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 whoctane loctane io stavo disani loctane 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 Occhio, occhio, bollati, nice Mi tiro la battery, mi tiro la battery Oh, è da... What? What? Crackata, one shot, morta Laura Aklon Blow down da me Un HP blow down, un HP blow down Morto blow down Nice, arrivo, arrivo due secondi Prendo dp di mox, prendo dp di mox Dp di anch'io? È rimasto solo il gifo, tirando fat Sono con te mox Ok, venga back Io tiro la battery È là dietro in solo Devo prendere il punto io Vabbè? Ok, io sono full No Ma potrei aver il punto passive Ma che pezzo Oh, zii, io ho sparato un colpo Cosa ne so che esplode Vabbè Ma non è la colpa via Non è la colpa via Ho preso action per sbaglio Per sbaglio Diciamo che ti mi ha facciato col mirino in testa E detto che faccio Non sparo Ma sì che sparo No, io gli ho sparato le chiappette Sì Sì